Attesa per il secondo tampone di verifica per l'ultimo caso di coronavirus nel Cilento, registrato ieri a Vallo della Lucania, si tratta di un dirigente amministrativo dell'Asla Salerno che in seguito agli esami di screening su tutti i dipendenti dell'ente sanitario è risultato positivo al covid-19. L'uomo però sarà sottoposto ad un altro tampone per avere l'effettiva conferma del contagio, attualmente asintomatico e si trova in isolamento presso la propria abitazione. I contatti dell'uomo sono stati posti anche loro in isolamento fiduciario. Nel Cilento sono cinque i casi attivi, tre ad Agropoli, uno a Casalvelino e Vallo della Lucania. Nel Vallo di Diano l'allarme sembra essere rientrato dopo i tre casi di ricaduta di pazienti covid già guariti, infatti non sono stati registrati ulteriori contagi o ricadute.